Il palcoscenico del Soccer City, tutto è pronto per questa cerimonia di chiusura del 19esimo iniziale di campionato del mondo. È difficile credere che tra un paio d'ore su questo palcoscenico si discuterà la finale del Mondialo di Gallo, la più inedita delle finali che la Urea, che la Urea, lontava regina, lontava regina del fondo. A proposito di dignitari e di case reali, poco prima che lo studio ci desse la linea sono apparse sui teleschermi le immagini dell'arrivo della regina Sofia, del principe Giuliano Dolanda, vicino al presidente del Sudafrica Zuma e naturalmente a Giuseppe Dolanda. Pensa che 400 anni fa questi paesi sono stati in guerra per 80 anni, quale maniera migliore per stringersi la mano sul canto di calcio? Ecco la raffigurazione marino dei nuove stadi, dei nuove città che hanno ospitato questa edizione del Mondialo. Le nuove città e qualcuno ha detto quattro climi diversi. Vogliamo ricordare, città del Capo, Rustemburg, Pretoria, Polovania, Johannesburg, Nestrui, Turban, Port Elizabeth, Lund Fontaine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cammina, cammina, questa è una delle più grandi cantanti pop del mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.